Settimana di riposo per la Sandro Abate. Dopo la vittoria arrivata contro la capolista Napoli Futsal, la formazione di Piero Basile ricarica le batterie per il rush finale della regular season. A ritorno in campo, i Verdi Azzurri sfideranno sabato, primo aprile, il Meta Catania in esterna. Sei le partite che dividono la truppa erpina dalla conclusione del campionato regolare. Tre quelle casalinghe contro Real San Giuseppe, Pesaro e Monastir. Altrettante in esterna con appunto Catania, Camedosson e Agniene. Ad oggi la Sandro Abate è in piena zona playoff, visto i 38 punti in classifica. La gara del prossimo weekend metterà in palio punti fondamentali contro gli Etnei fermi a 32. La Sandro Abate ha messo a segno fin qui 99 reti, 84 in campionato, 7 in Coppa Divisione, 7 in Coppa Italia. In 28 gare stagionali, 24 in campionato, 2 in Coppa Divisione e 2 in Coppa Italia. Sono 13 i calciottisti di Mister Basile ad aver trovato la via del gol. Nel derby vinto contro Napoli le reti sono state 6, siglate da Alex, Doppietta, Abate, Angelot, Crema e Botta. Lo spagnolo resta in vetta solitaria, il capitano fa 4 nel stagione, seconda marcatura per il colombiano che mette all'effetto un gol di pregevole fattura di tacco. E terza per il difensore italiano, primo centro dopo il ritorno per Manuel Crema.